Dimmi Vuoi ottenere il sushi? Io prendo il sushi Il fatto è che io sono a dieta Sondaggio Comincia così questa nuova serie, ragazzi Nuova serie sul canale Io voglio fare la gentilezza di chiedere se vuoi No, no, a prezzo, aspetta, state buono Che anche io voglio mangiare il sushi Ragazzi, cosa molto importante Votate qua se posso mangiare il sushi Oppure se mi faccio la minestra Che Suri mi sta tentando, quindi sondaggio Sushi o minestra? Olè, adesso vediamo Tra un minuto la risposta che vincerà Sarà quella definitiva Troppo che tu se scelgo lo sushi Eh? Va bello Che cazzo vaga? Ognuno paga le cose sue E anzi... Aspetta Scrivi, devo pagare la mia parte e devo finire a Suri Vediamo cosa vince Sushi, sushi Ok ragazzi, ho vinto il sushi adesso Chi paga? Ognuno paga le cose sue o paga Suri? Oppure pagatudo Mortacci tua Mortacci tua Tanto rega so che vincerà pagasurri sicuro Et voilà, anche il secondo sondaggio è dato online Però non è scritto pagatudo o pagasurri? No, ognuno paga il suo o pagasurri? Non è giusto? Aspetta, intanto ho già visto Nooo Sarà 100-0 pagasurri tan Suri io ti voglio bene Eh, io no Allora Mortacci vostre Cos'è? Sì, no cazzo per... 200 voti Suri 40... Sbaglio ho già ordinato Nooo, bello sei bello No, 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 no Che vuoi? Allora... Però dopo devo parlare anch'io dei sondaggi Cioè non mai che poi li fai solo tu E il mio video che cazzo O io paga il suo o pagasurri Non pagatudo o pagasurri Tu te la sei giocata male qua Te la sei giocata malissima, voglia Allora, nigiri 10 4 sashimi 5 2 forzioni Certo Shibuya roll 3 1 Eh, no, perché sto a dieta? Eh sì che sto a dieta Cazzo, dai 1 Ragazzi ormai il pagasurri è della tua moto del canale, cioè Aiuri, aiuri, cazzo Numero 5 Ragazzi, che dire, benvenuti in questo nuovissimo video O anzi, nel primo episodio di questa nuova serie Che farò basandomi sui sondaggi su Instagram E che dire, è cominciata la grande ragazzi Sono le 8 e mezza e questo qua ragazzi sicuramente sarà un bellissimo weekend Allora, cosa abbiamo qua? Vabbè nigiri, sashimi e roll No, che c'ho i nigiri a flambella Sai, finché pensavo di pagare io la mia roba e basta Dicevo a me stasera Russo Russo stasera E invece Un pranzino, se Un pranzino Ti propongo una cosa Domani ti offrò anche un pranzo Va bene Però non il kebab Non il kebab No, facciamo il sondaggio Preparati eh Ragazzi, nuovo sondaggio Devo fare un pranzo assurri Sondaggio A Pranzo domani a Bardonecchia sulle piste con la polenta O Sushi sempre a Milano Te l'ho detto Cosa vincerà secondo te? Per forza vince Bardonecchia Per forza Anche perchè se ragazzi non vince Bardonecchia quitto Cioè veramente Mi deludete un botto Ooooo 70% hanno votato per andare a Bardonecchia Ma come andiamo? Col treno Dai Tu mi stai odiando adesso Siamo in macchina almeno Siamo in due Nessuno di noi c'è la patente Chiamo Alberto Si Lo facciamolo Ok ci abbiamo ragionato un po' su E siamo resi conto che in effetti è fattiva andare a Bardonecchia domani Quindi non ci teniamo qui indietro E chiamiamo Alberto adesso Tu 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 Stai facendo tutto da solo Il pubblico ha deciso Ma tu hai fatto tutto Non hai chiesto prima a nessuno niente Ma chi se ne frega Te lo chiami tu Alberto però Albi Se ci dice desi Vai Anzi Facciamo il sondaggio per la chiamata Vai chiamolo Tutto Oialbe su tutor No ciao tutor Che fai domani? C'è un'assessuale intermedia Devo iniziare ad avere più esami C'è qualche appuntamento o qualcosa Domani da fare? No Nel senso appuntamento no Devo iniziare a studiare Perché comunque c'è questo esame E' abbastanza importante Perché poi Sì Ragazzi Nuovo sondaggio Siamo in chiamata con Alberto Se vince sì No Alberto ci accompagna a Bardonecchia ragazzi No Tu no No Sì sì Ragazzi Ci manca la macchina alberto Ci manca la macchina Nessuno sa guidare Ve prego No pure no Andiamo in treo piuttosto Ma io ne ho bisogno di andare Oh però Albi Se vince sì Domattina la sveglia presto eh No Dobbiamo stare sulle piste Se partiamo partiamo alle sei Eh? Sei e mezza Sei e mezza Sei e mezza andata Albi Sta zitto un po' Ci vede 5 minuti la mattina 5? Magari no Solo da mezz'ora Mezz'ora Vabbè ti sveglia le 6 5 e mezza 3 e 5 se non è di vintevo Ti offro anche te il pranzo dai Addirittura Sì Sì pranzo E che cazzo magna in montagna Albi confervisi No Se vince il sì Ma se vince il sì Ma di cosa stiamo parlando? Cioè siamo al 100% sì Siamo al 100% sì Siamo al 100% sì ragazzi Siamo al 100% sì 5 5 5 5 Confermato Ci va a bardonecchia ragazzi Questo vlog ragazzi è leggendario È leggendario Zio viva la vita Ha fatto tutto da solo ha fatto Viva la vita e viva la carta dei sorri E viva il bello È leggendario Bella Notte Buongiorno Fatte da un abbraccio Vaffa Ragazzi Dopo due mesi che non tornavo Siamo finalmente a tornare a bardonecchia Grazie Albe Grazie Purtroppo ragazzi il tempo non è granché Perché nevica E non si vede nulla sopra Però vabbè ci divertiremo lo stesso Sicuramente Per bagno di dieta Ragazzi sono mele e frutta Scusa Stefano Cominciare così la giornata Ti ho magari dato la colazione Allora no la cosa è che mi hai regalato una bella maschera Che non so Non te l'ho regalata Mi sono delle foto da madonna zio Ragazzi Dobbiamo fare gli ski pass adesso Quindi Nuovo sondaggio Eh no stavolta un pagno di più Paga Alberto No Lui ci ha accompagnato Nuovo sondaggio Ragazzi allora Chi dovete pagare gli ski pass? Io? Oppure Tungor Che mi hai curato pure su di Dubai? Dai Votate voi È una spesa molto indifferente quella degli ski pass eh Qualche posta? Boh 20 euro Che hai scritto? Chi paga gli ski pass? Klaus o Surry? Ok Perfetto nel frattempo Surry e Alberto hanno affidato gli sci E adesso infatti vediamo il sondaggio Vai mettiamo gli sci Tu devi andare la prima bello Casse e ski pass Ehi bello 60% Surry 39% Klaus Però Però aspetta Cazzo ti ho già pagato il sushi Però lo dico io infatti Dato che mi hai pagato il sushi A prescindere te lo pago gli ski pass Ok Ragazzi invece se lo paga da solo No no pago anche quello di Alberto ragazzi Grazie Prego Grazie tu Buona giornata Poi il minimo sarà vuoto Vai su Non ne casca qua Surry Se casca io ti pago il pranzo Te lo dico Che bello non usciamo da Dubai ragazzi Scusa Surry Pit stop Siamo quasi a pranzo Vai Surry cosa mangiamo? Un bel piatto di pasta per l'energia Surry che è qua va La pasta Sondaggio No 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 zio no io mangio il cazzo che voglio Sondaggio Scegliamo per Tudor Faremo il sondaggio per Tudor No io ho bisogno di mangiare Ragazzi a pranzo ci mangiamo una polenta Pasta cose o il minestrone No 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 Salvo ti dice un culo enorme Non c'ho servizio per caricare la storia Vedo che non possiamo fare il sondaggio Accontenterò tutti quanti Ok Io ti prendo sia la zuppa che la polenta Ok Ragazzi Per accontentare tutti quanti Pelle abbondanti Perfetto La polenta è la percola salsicca Sì grazie Perfetto Eh Tassi nostra raga quanto cazzo avete preso? Potete andare ragazzi Chi pago? Eh pago io E voilà La zuppa del trasporto si è smezzata intanto Scusa noi abbiamo preso 1 in 2 E io 2 in 1 Buon aperito ragazzi Grazie Grazie del pranzo tu Grazie Buona volta Ci sta ragazzi è giusto Allè Giornata finita E adesso andiamo a far merenda Per me è questa? Sì Chi ha pagato? Io Neanche glielo ho chiesto Cioè neanche glielo ho chiesto stavolta Faccio prendere qua Sì sì a voglia Si è conclusa così alla stagionata scistica Sono le 5 in quarto E adesso siamo di ritorno a Milano Giustamente ragazzi dopo la giornata di sci Uno si riposa Quindi Alberto portaci a casa Io odio Suoi tu che fai? Io do In serio Esatto anch'io Che scherzo Albe? Lo sai che non lo farei mai Che no Che Qualcuno si ricorda sciamoni Che cosa stai facendo? Sto fermando a fare benzina Adesso stiamo un po' sgravando E le regole del video quali erano? Per ogni cosa va chiesto il sondaggio Possiamo fare benzina o rimaniamo in mezzo alla strada? Chiediamo le persone Ragazzi siamo all'autogrill e Alberto vuole fare benzina Sondaggio Facciamo benzina o no? Secondo me si Perché comunque no Ti dirò anche secondo me forse mi viene Vai ragazzi Rischiamo Rischiamo Ma cosa rischiamo? Prendiamo un panino e poi ne li parliamo Ma è bene ragazzi Avete vinto voi Panino sia Onestamente non penso abbiano votato per il panino Abbiamo fatto una votazione interna Non sarà piovere No sarà No è acqua Stai vincendo la benzina Ho buttato anche io No No ragazzi Come no? Ma perché non vuoi? Non vuoi tornare a casa? Devo lavorare zio Tengo un big king chicken butter Ah mortacci Io prendo i nuggets da 9 Da 9 Io ragazzi passo Stefano si fiero di me No 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 Si hai vinto si Ragazzi avete deluso veramente Ma è pagare tu per la benzina? No non ho sondaggio perché io non pago un cazzo No 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 Se avete deluso dicendoci che Volete che facciamo benzina Quindi a questo punto Non deludeteci E decidete chi deve pagare la benzina La pago io Non è inutile che inquadri Ah strozzo Oh la paga Surry Ho già pagato la piadina Ho già pagato io La crepe Non dovevamo fare benzina Era fighissimo E' bellissimo Arrivamo Io non ho accettato Dovevamo chiamare i carattrezzi E faceva troppo ridere Ragazzi Buttate tutti Surry Surry E sta al 100% ragazzi Surry? Oh! Tutore Eh ragazzi Ha vinto Surry C'è già la corona in testa Dai Su Vado a pagare io No Colpo di cerca Scherzato Vabbè E comunque ragazzi Ieri Al chi paga il sushi Ha vinto Surry Con 60.000 voti Cioè Dai Felici tutti Si torna a casa Ma devo dire no ragazzi No, non bisognava fare benzina Ecco Avremmo vinto Così eravamo già a casa Ma che cazzo No, siamo su carattrezzi E faceva ancora più ridere E Ale Siamo arrivati a casa ragazzi Sì Thank you Albert Alla prossima Grazie Surry per questa giornata Ma non finisce qua logicamente Stasera suona Stefan Bozin Comincia a suonare le 3 di notte Se finisco presto vado a dormire Oppure facciamo il prossimo episodio di questa nuova serie E perché ci sarà ancora A voglia Grazie Surry per questa giornata A te Grazie per i continui Io spero che questo video vi sia piaciuto E da casa lasciate un bel like E superiore i miei raccogli 30.000 like E ieri Bella